In occasione della festa dell'albero 2024 di Lega Ambiente all'istituto Fedi Fermi di Pistoia si è tenuto un'attività con gli studenti che hanno piantato due mimose in uno spazio verde in limitrofo alla scuola. Questo progetto fa parte anche di Life Terra dove qui vicino abbiamo piantato 100 alberi e quindi questi altri 4 che sono qui in questo prato sono stati piantati da noi anche questi e cerchiamo di rendere questo luogo un po' più vivibile perché ora con la costruzione delle nuove aule abbiamo cercato di trovare dei luoghi dove poter attivare un percorso di sostenibilità. Un'iniziativa non solo in ottica verde ambiente ma anche legalità proprio nella giornata del ricordo delle vittime innocenti di mafia a cui gli studenti stessi hanno legato nomi e testimonianze. All'iniziativa erano presenti anche alcuni rappresentanti di Carabinieri di Pistoia e il Corpo Forestale dello Stato. Credo che queste due piante saranno a testimonianza a ricordare il loro sacrificio che purtroppo sono sacrifici che a volte perdano in parte il loro significato e invece noi dovremmo gioco forza riportarli all'attualità perché siano da esempio a tutti noi. Abbiamo fatto un lavoro collettivo tutta la nostra classe insieme ci siamo occupati di fare una presentazione in cui non solo parlavamo di quelle che erano le comafie di come quest'ultimo operavano e di quali fossero i loro illeciti ma anche tutte quelle che erano le vittime ingiuste. Luigi Ioculano è un medico nato a Gioia Tauro nel 27 settembre 1941. Credeva fermamente che la cultura fosse uno degli strumenti migliori per risanare appunto il suo territorio. Purtroppo questa sua libertà di espressione lo porterà ad essere ucciso nel 25 settembre 1998 con quattro colpi di pistola da un killer dell'Andrangheta.